Collegare, trasportando le merci su rotaia, i porti del Mediterraneo con l'Europa del Nord. Tutto questo col supporto di Grimaldi Lines per le rotte marittime da Grecia, Turchia e Albania, ma soprattutto grazie a un contratto sottoscritto lo scorso 13 febbraio a Francoforte tra San Gritana S.P.A. e Cargo Beamer, azienda tedesca specializzata nel trasporto ferroviario di semi rimorchi, che possiede un brevetto grazie al quale è possibile mettere sui treni anche i camion non predisposti ad essere caricati con le gru. In Italia il percorso parte dallo scalo di Bari-Ferruccio e arriva al lab di Domodossola, da dove poi le merci vengono smistate verso Kaldenkirchen, cittadina della Germania al confine con l'Olanda. Per noi è fondamentale la partnership con San Gritana, con l'Abruzzo, con gli interporti qui in Abruzzo e fino in Puglia sono essenziali per poter collegare i nostri volumi per il centro-nord Europa essenzialmente. Vantaggi economici con l'abbattimento dei costi dei pedaggi autostradali anche esteri, ma anche più sostenibilità con una riduzione delle emissioni di CO2 fino all'85%. La rotaia passa sulla direttrice adriatica, quindi ci solleva da incrociare tanti camion sulla rete stradale che è nota in più che intassatissima da cantieri e da lavori in corso da diversi anni che si proseguiranno per diversi altri anni ancora.